A 200 all'ora, in tangenziale a Treviso, ieri pomeriggio, l'autovelox fisso ha immortalato il conducente di una Porsche, risultata poi intestata a un'azienda, mentre sfrecciava a quella velocità in direzione paese. Non di notte, quando per strada non c'è nessuno, ma in pieno giorno, mancavano pochi minuti alle 15. Lo spericolato guidatore al volante dell'auto sportiva andava a più del doppio del consentito, per lui maxi multa da 828 euro, via 10 punti patente e sospensione del documento di guida da 6 a 12 mesi. Ennesimo assalto a un bancomat, questa volta in città, in via Rota, alla laterale di Viale Brigata Marche, che conduce allo stadio. Obiettivo nella notte di una banda di malviventi, lo sportello automatico dell'Unicredit. I gnoti, intorno all'1.50 del mattino dopo aver deviato la telecamera di videosorveglianza, hanno forzato con il piede di porco la porta antipanico, cercando poi di far saltare la colonnina con l'esplosivo. Il bancomat ha retto, è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati carabinieri e polizia. I ladri a quel punto hanno dovuto fuggire a mani vuote. Ha parcheggiato l'auto in divieto di sosta in via Manina, a Treviso, convinto che non l'avrebbero comunque multato, visto che sul cruscotto esponeva il contrassegno per disabili. Ma quel tagliando, autentico a una prima occhiata, non ha convinto i vigili urbani, pur fornito di un numero originale, l'intestatario non corrispondeva e la firma del funzionario che l'aveva validato è risultata poi falsa. L'uomo, un quarantenne, è stato multato e denunciato per falsità materiale. Un 22enne della provincia di Catania è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per truffa. Ha messo in atto a Castelfranco la classica truffa dello specchietto, convincendo un'impiegata 36enne del posto di avergli rotto lo specchietto della macchina durante una manovra di sorpasso e facendosi consegnare sul posto 110 euro. Solo poi la donna ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno rintracciato e segnalato all'autorità giudiziaria il soggetto.